Hai mai provato ad abbinare il pesce agli affettati? Se non lo hai ancora fatto, eccoti tre piatti, uno più buono dell'altro, assolutamente da provare. 1. Sgombro al forno in porchetta. La pancetta che avvolge i filetti di pesce diventa croccante e mantiene lo sgombro al suo interno morbido e succulento. 2. Canestrelli gratinati. In questo caso la gratinatura è arricchita da una fettina di lardo. Il lardo in cottura si scioglie e dona un sapore unico ai nostri canestrelli. 3. Sandwich di sarde e pancetta. La pancetta avvolge due sarde aperte a libro, ripiene di pangrattato e aromi. Si tratta di un antipasto davvero bello da vedere, economico e squisito. Se vuoi saperne di più su questi tre piatti, in descrizione ti lascio il link alle singole ricette.